Il Nepal è uno dei paesi ai piedi dell'Himalaya, la catena con le montagne più alte della terra e da lì dagli oltre 8.000 metri il mondo ha un'altra dimensione, è il cielo, è più vicino. Il Nepal è uno dei paesi ai piedi dell'Himalaya, la catena con le montagne più altezza, è più vicino. Il Nepal è uno dei paesi ai piedi dell'Himalaya, la catena con le montagne più altezza, è più vicino.